Grazie a tutti. Perché vedo che già, ecco, sono i primi interventi, ma già tutti e due, anche il mio, sarà impostato su un'esperienza personale. E questo mi ha piacevolmente, ulteriormente colpito. Cioè, stiamo condividendo innanzitutto un'esperienza umana prima di teorie sull'argomento. E per questo, quando ho letto la notizia di questa iniziativa, era a fine novembre, mi sono sentita subito non solo interessata dall'argomento, ma proprio direi di più coinvolta. Ed è con questo spirito che appunto vi propongo queste poche riflessioni. Ho cominciato soppesando le parole del titolo e mi sono detta, beh, senz'altro tutte le discipline, e noi come università naturalmente le abbiamo tutte, potrebbero dare al tema del tempo un contributo scientifico che ci aiuterebbe ad esaminarlo in tutte le sue sfaccettature e in tutti i tempi della storia. Ne verrebbe fuori anche uno di quei libri magari da tenere sul comodino e ogni tanto rileggere. Se poi solo pensiamo alla letteratura, alla musica, potremmo iniziare viaggi infiniti. Il testo c'è il libro Elogio della lentezza, ci sono vari libri del professor Maffei che ci spiega anche come proprio le nostre strutture celebrali che abbiano bisogno di tempi biologici per fare le loro funzioni. Mi viene in mente di Gillo Dorfless, l'Horror Plani, è noto che ci sono due producenti di architetti, quindi la coincidenza mi fa molto piacere. Ma il titolo precisa per pensare, il tempo per pensare, che questo è un bene essenziale per la comunità. Allora anche qui ripartendo a soppesare le parole del titolo, mi sono detta, mi richiamo alla mente le cose fondamentali che potrebbero essere anche scontate, però ogni tanto mi fa piacere ricordarmele. Una comunità universitaria è chiamata essenzialmente, cioè è la sua essenza quella di pensare e di affermare verso la società che questo è appunto pensare è un bene essenziale per la propria comunità e per tutta la comunità degli uomini, del proprio tempo con la quale deve essere sempre in dialogo. Una comunità universitaria, e non a caso uso la parola comunità, ha la responsabilità di tenere vivo lo spirito critico, di proporre strade di benessere globale della persona e di essere in questo di esempio agli altri, a partire proprio dallo stile con cui svolge il proprio ruolo appunto didattico, di ricerca, di trasmissione delle conoscenze alla società. Una comunità universitaria deve anche saper riconoscere e opporsi a certe pressioni che la snaturerebbero. È alla luce quindi di questi tre punti fondamentali che ho vissuto un certo stupore quando nella presentazione ho letto che il libro di questi due docenti canadesi aveva rotto un tabù, cioè un qualcosa di cui si parlava quantomeno con un certo pudore. E invece credo che un po' tutti noi, quali cittadini globali, abbiamo senz'altro provato senso di inadeguatezza e di frustrazione nel misurarci, l'abbiamo già stato detto, nel misurarci con i ritmi della vita quotidiana. E questo ci crea stati d'animo che deteriorano la qualità della vita. Ma di questi, tutto sommato, se ne parla apertamente. Mentre scrivevo queste riflessioni, mi venivano in mente due o tre episodi che avevo vissuto direttamente in quei giorni, ma che ora sarebbe troppo lungo raccontare, ma piccoli aneddoti della vita quotidiana che proprio mi testimoniavano questo. Credo anche che un po' tutti noi, e quindi ce lo siamo già testimoniato, come universitari in senso lato, abbiamo provato questi stessi stati d'animo anche nell'ambito del nostro lavoro. E di questi forse non se ne parla abbastanza. Diciamo, ce lo scrivevo e ce lo siamo già detto, spesso la carenza di risorse ci spinge appunto a carichi di lavoro crescenti e ad una competizione esasperata che si gioca sulla quantificazione di una realtà non completamente quantificabile. Tutto ciò, con il passare del tempo, logora la passione per il proprio lavoro e che è una parte importantissima della vita di una persona. Manca quel tempo per riflettere, per scambiare opinioni, per dialogare, per confrontarsi, per condividere. E qui forse sta proprio il più importante fattore di stress e lavoro correlato che un po' tutti, per essere qui, forse abbiamo già provato. Si tratta allora, ecco, mi sono detta, di riappropriarci e di difendere questo desiderio, ma anche bisogno di pensare per noi stessi e per poterlo trasmettere a chiunque incontriamo, per la nostra salute in senso generale e pieno della parola e per la salute della intera società. Vengo ora alla mia esperienza concreta, in particolare quella che ho vissuto negli anni dal 2008-2017, anni in cui ho cercato di dare così il mio contributo quando veniva chiesto anche al personale amministrativo e nei quali noi tutti abbiamo affrontato due profonde riorganizzazioni, 2010 e 2013. Per il concetto che ho del tempo, e apro una piccola parentesi, mi veniva da pensare il tempo è come l'acqua, è un dono prezioso, non va sprecato, soprattutto pensando ai gravi e urgenti problemi che ci sono da risolvere. Per questo concetto, quindi, che ho del tempo, mi trovo spesso a valutare con me stessa se ho dedicato ad una certa situazione, a un certo compito da svolgere, un congruo tempo, in rapporto a una certa scala di valori e di priorità. E mi sono detta, in questo spirito, è doveroso anche che un'organizzazione faccia un'analisi dei processi e li valuti in base alla loro quantità e complessità. E perché no? Anche in base al tempo stimato per effettuarli. purché, però, si sia sostenuti da una certa visione della persona e del lavoro. Era a fine gennaio quando scrivevo e la cronaca ci diceva di una nota società che aveva brevettato un braccialetto elettronico. La questione, allora, è se questo tempo stimato del processo include anche il tempo per la critica e lo scambio e il tempo per l'empatia, ovvero, se include da una parte il tempo per chiedermi se quello che sto facendo ha un senso logico e se si può gestire la stessa problematica in modo diverso. Per scegliere anche le parole più appropriate per esprimermi o per scrivere e curare anche lo stile per una maggiore comprensione con la persona con cui sto parlando, sto scrivendo per creare un clima di comprensione e di rispetto reciproco per confrontarmi con altri colleghi quindi questo nell'ambito del tempo della critica e dello scambio il tempo dell'empatia è per condividere le difficoltà dei docenti che mi richiedono un certo servizio e delle persone alle quali quel servizio è rivolto. Certamente ci si mette più tempo a fare una certa cosa ma questo è un tempo prezioso e produttivo perché cuce, tesse relazioni appunto di comprensione e di rispetto reciproco del ruolo. Scrivevo ancora queste riflessioni e pensavo a due settori in particolare di cui mi sono occupata la gestione degli assegni e delle borse di ricerca e la rendicontazione dei fondi di ricerca, delle fonti di finanziamento. Certamente si tratta di questioni molto grandi che non dipendono da una singola università e sulle quali poi sicuramente potranno esprimersi ancora meglio le componenti più direttamente coinvolte ma propongo alcuni spunti brevi di riflessione. La prima esperienza. Da più di vent'anni abbiamo nel nostro ordinamento nazionale la figura dell'assegnista di ricerca. La figura nata probabilmente come transitoria e poi come spesso, ahimè, ci accade, cronicizzata. 1997 è la prima legge e quindi sono vent'anni. Dal mio pur limitato punto di osservazione mi sento di comprendere ecco comprendere una parola che prende con me la difficoltà e la frustrazione dei docenti e dei ricercatori nell'attribuzione del personale non strutturato, cosiddetto malamente, ai vari progetti di ricerca, anche a causa di una grande varietà di tipologie, di tempistiche di finanziamento, di regole di rendicontazione. Ancora più mi sento di condividere la pazienza e la frustrazione dei candidati nel presentare le domande di partecipazione ai concorsi con una frequenza a volte, per così dire, imbarazzante. Mi sento di dire, dalla mia parte, che sia anche condivisibile la pazienza e la frustrazione dell'amministrativo nel seguire la procedura prevista, necessariamente lunga e articolata, per contratti di durata annuale, quindi un tempo piuttosto breve. La seconda esperienza. Le forme di finanziamento sono oggi molto articolate in varie tipologie tempistiche, con una certa varietà di regole di rendicontazione. Anche qui, dal mio pur limitato punto di osservazione, mi sento di comprendere la difficoltà e la frustrazione dei docenti e dei loro collaboratori nell'orientarsi, soprattutto nelle rendicontazioni. E anche qui mi sento di dire che sia condivisibile la pazienza e la frustrazione dell'amministrativo nel mettere tutti i pezzetti del puzzle al loro posto. Occorre molto tempo per fare tutte queste procedure, troppo. E alla fine manca quello per elaborare proposte. Nell'ambito del tempo per la critica e lo scambio, per esempio, potremmo incoraggiare la ripresa dei gruppi di lavoro amministrativi di Ateneo. Tentare l'elaborazione di una proposta di linee guida sostanzialmente comuni ai vari enti per la presentazione delle richieste di finanziamento e per la rendicontazione. La programmazione di riunioni settimanali di verifica efficaci, l'organizzazione di momenti di esame e condivisione esame e condivisione degli obiettivi particolari e generali, cioè sentirsi parte di un processo decisionale e non solo esecutori. Nell'ambito del tempo per l'empatia, potremmo incoraggiare l'organizzazione di seminari periodici divulgativi interni, per esempio ai dipartimenti, io lavoro in un dipartimento, sui temi di ricerca, perché spesso poi ci piacerebbe anche approfondire i temi che vengono studiati nei nostri dipartimenti e magari ogni tanto mi fa piacere un po' leggere, sbirciare qualcosa, ma ecco, magari giustamente non ne ho le competenze, invece un seminario divulgativo interno, anche breve, mi farebbe imparare tante cose nuove. Nell'ambito del tè, ecco questo appunto, dell'empatia, ma forse qualcosa si sta già facendo in questa direzione e magari è sfuggito a me, perché? Perché occorre tempo per tenersi informati e qualcosa alla fine sfugge, ecco questo con un sorriso. Mi si dirà che tutti siamo pieni di impegni, infatti non me ne voglia il professore che ha parlato prima di me, ed è vero, molti dei quali per riunioni legate al lavoro, e che tutti abbiamo fatto esperienza di riunioni inconcludenti, ed è vero. Ma si tratta un po' di rieducarci ad una sana gestione del tempo, rispettando certi consueti piccoli accorgimenti, come la limitazione del tempo dei singoli interventi, ovvio, e lo stabilire il tempo totale dell'incontro. Si stabilisce un inizio, si inizia alle tre, entro le quattro dobbiamo aver concluso qualcosa. In modo da fare cosa? Incoraggiare la messa a fuoco preventiva dell'essenziale. Ecco, questa opera di scarnificazione dell'essenziale, non per essere soldatini al comando, ma per, ecco, veramente cogliere poi ed essere concreti. Sembra scontato, ma non lo è. Alla fine, tutto sommato, vedremo che si risparmia questo famoso tempo. Mi si dirà anche che è sempre più difficile ascoltarsi autenticamente e dialogare efficacemente, in modo cioè che veramente ci si ascolti. Ed anche questo è vero. È come fossimo in una sorta di crisi da dose eccessiva di parole. E anche qui si tratta di riscoprire, per certi versi, il tempo del silenzio, per godere poi del tempo per pensare e così riprendere anche proprio energia. Tutto ciò, tutte queste, ecco, riflessioni, se non per riaffermare il valore della persona, ma io mi schiero decisamente su questo, cioè sul riaffermare il valore innanzitutto della persona, almeno, ecco, lo si deve fare per una saggia strategia di coinvolgimento. Perché? Perché se no non si raggiungono gli obiettivi che poi ci si era preposti. Una volta di più, arrivati a fare ormai esperienza chiara e lampante delle conseguenze negative di un certo modo di essere e di fare, abbiamo la possibilità di darci, appunto, un tempo per pensare. In fondo, ecco, il volante è sempre nelle nostre mani. Per confrontarci, sì, ma anche poi seguito da un tempo per agire, perché non diventi un pensare fino a se stesso, ma sia poi finalizzato ad un'azione concreta. Lo possiamo fare, cioè è nel nostro potere di farlo. Ed è questa la speranza con la quale ho scritto questi pensieri e il mio augurio per tutti noi. Grazie.